Ben ritrovati, oggi parliamo della salute dei nostri occhi. Ebbene, esperti a livello europeo e internazionale collaborano tra di loro proprio su questi temi. Abbiamo con noi la dottoressa Elisabetta Mengoni del gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi, che è un'importantissima società scientifica a livello europeo e internazionale. Grazie di essere presente. Ecco, dottoressa Mengoni, voi siete nati proprio per valorizzare la medicina territoriale, così? Sì, esatto. Noi siamo nati appunto dieci anni fa con lo scopo di dare dignità e di dare una maggiore importanza proprio all'oculista territoriale, che è l'oculista o l'oftalmologo ambulatoriale. Territoriale è molto importante. Noi abbiamo visto come sia importante la medicina territoriale, soprattutto anche in questo periodo di epidemia da Covid-19. e quindi noi dobbiamo rivalutare questa presenza territoriale del medico in generale, ma soprattutto anche dell'oftalmologo, che prende in carico il paziente e poi lo segue in tutto il suo percorso per avere come scopo la salute visiva del paziente. Ecco, quali sono i contenuti del congresso prossimo di Gol? Ecco, noi sì, faremo questo congresso che sarà un pochino un confronto con oculisti universitari, ospedalieri, oltre noi ambulatoriali, come una riflessione su quello che è stato fatto in passato da noi, ma anche per avere spunti per un futuro. Parleremo sicuramente dei protocolli, dei percorsi che abbiamo messo a punto in questo periodo di epidemia per recarsi in ambulatorio per la sicurezza sia dei sanitari che del paziente stesso. Però parleremo, e non dobbiamo dimenticarlo, parleremo di tutte le altre patologie, e quindi del futuro delle patologie della retina, del glaucoma, della superficie oculare, del rapporto medico-paziente che per noi è sempre molto importante nel senso di una umanizzazione di questo rapporto, e poi della prevenzione in oftalmologia pediatrica. Ecco, lei approfondirà proprio questo tema, quindi quali sono i consigli che dobbiamo dare anche a casa alle mamme? Allora, sì, io mi occupo prevalentemente di oftalmologia pediatrica e parleremo proprio della prevenzione. La prevenzione oggi inizia dal neonato fino ai 18 anni, dal neonato perché già alla nascita viene fatto uno screening neonatale che si chiama riflesso rosso del fondo, proprio per prevenire patologie molto importanti e gravi, i quali la cataratta congenita, glaucoma congenita, retinoblastoma, e quindi questo viene fatto dai neonatologi con l'aiuto degli oculisti quando necessario. Dopodiché viene, noi infatti abbiamo anche come goal fatto, abbiamo collaborato con Regione Lombardia per un protocollo che poi è stato esteso a tutte le altre aziende, aziende lombarde, l'azienda ospedale Lombarde, proprio per lo screening, per questo screening importantissimo del riflesso rosso del fondo ai neonati. Poi naturalmente, in proseguo di tempo, è importante se ci sarà, se c'è una indicazione da parte del genitore o del pediatra di base, una visita si può effettuare anche a sei mesi o un anno per appunto evidenziare eventuali strabismi, posizioni anomali del capo che sono sempre indice di una patologia. E poi a tre anni è la visita diciamo più importante di tutti perché il paziente ormai, anche se a tre anni, riesce a collaborare molto bene per evitare che ci siano per prevenire difetti di vista importanti. Ecco, come Goal collaborate proprio con l'Istituto Besta per la figura del neurooftalmologo. Di cosa si tratta? Allora, il neurooftalmologo è una figura molto importante per noi perché è un trade union tra il neurologo e l'oftalmologo e quindi ci aiuta per tantissime patologie che sono un po' a metà strada tra l'oftalmologia e la neurologia. E quindi noi sì, collaboriamo e spesso chiediamo il consulto anche del neurooftalmologo. È quindi importante anche lavorare in rete a livello europeo tra oftalmologi? Sicuramente, è molto importante proprio per avere uno scambio per vari comportamenti, vari protocolli attuativi. E infatti abbiamo realizzato questo webinar proprio sul periodo di epidemia con anche colleghi francesi e inglesi e ci siamo confrontati proprio su questo problema. Ecco, perché è fondamentale non avere paura di andare a fare le visite oculistiche? È fondamentale non avere paura perché purtroppo avendo la paura si sottovalutano patologie, nel nostro caso oculistiche, ma in generale, mediche in generale, molto importanti. E quindi oggi io voglio ricordare che ormai noi siamo o in ospedale o in ambulatori, siamo pronti per tranquillizzare e rassicurare i pazienti. Non c'è pericolo di contagio nei nostri ambulatori e che è importante che loro si recchino a fare la visita oculistica proprio per non sottovalutare patologie che poi possono aggravarsi se non curate. Bisogna osservare i nostri bambini, ad esempio il diametro pupillare. Perché serve? Cos'è l'anisocoria brevemente? Allora, l'anisocoria è appunto la differenza di diametro pupillare tra una pupilla e la controlaterale e è importante controllarlo perché può essere la spia di una problematica neurologica. Cioè può essere anche un'anisocoria fisiologica, quindi non voglio spaventare perché le anisocorie sono anche fisiologiche talvolta. Altre volte però possono essere patologiche e nascondere delle problematiche neurologiche. In questo caso il neuroftalmologo, appunto, ritorniamo su quel discorso, è molto importante. Bene, se volete saperne di più consultate il sito www.colistigol.org Grazie a Dottoressa Mengoni di essere stata con noi e grazie a voi per averci seguito. Do la linea alla cara Natalie. Grazie.